Ciao, qui sta che ti amo un box, non un box, tre figurine con una moneta, primo pacchetto, vissamo in macchina. Possiamo già vissuto da uscire i nomi. No, niente nomi, niente nomi. Tieni. Questa ce l'ho già. Ce l'ho già, ce l'ho già, e ce l'ho già. Beh. Possiamo il pacchetto. Di marina. Beh, però che è una reverse qui, eh? Sì. La reverse non ce l'ho. Non ce l'hai la reverse? No. Wow. Un dartrix. È un eye. Oh, questa ce l'ha già. Ce l'ho. Un po', no lo so. Un po', no lo so. Ce l'ha, ce l'ha. Un pacchetto. Non ce l'ho già, forse tu. Non lo so. Non ce l'ha. 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 Eh, non ce l'ha. L'ultimo pacchetto. Già ancora non abbiamo trovato niente. No, abbiamo trovato. Come non abbiamo trovato niente? No, non abbiamo trovato. Un bel trotto di figurire, un bel trotto di figurire. No, ma non abbiamo trovato delle gie. Tutto è la macchina piena di bustine. L'ultimo pacchetto facciamo un trick. Bravo. Bello questo. Non vedo niente così. Oh. C'è qualcosa qui? C'è qualcosa? C'è qualcosa? C'è qualcosa. Piano. Ultima carta. Uno nega. Proprio subito uno nega.